Noi ci apprestiamo in settembre di andare a fare questo grande evento che rientra nei 150 anni delle iniziative del Giappone con l'Italia, di questo patto che c'è e non sarà solo il Turandot ma ci sarà anche il mio concerto che si svolgerà a Tokyo alla Santeriol con quello della Filarmonica, perciò direi un evento molto importante sia per noi che per la città.